Quanti di voi hanno mai provato a bruciare qualcosa con una lente? Beh, qui vedete una cosa simile, anche se concettualmente diversa. Non parliamo di lenti quindi, ma di concentratori solari. Sono dispositivi che utilizzano l'energia del sole per generare calore. Il funzionamento si basa sulle capacità di una lente o di uno specchio di concentrare la luce su un punto preciso, riuscendo quindi a riscaldare l'aria o un liquido. Grazie alla loro capacità di concentrare la luce possono raggiungere temperature elevate, anche superiori ai 500 gradi centigradi. Queste temperature consentono di produrre energia elettrica attraverso la generazione di vapore ad alta temperatura. Se vi appassionano questi temi energetici, questa è la pagina giusta.